Musica Benvenuti in appuntamento con la TG10 Il mio totale sia alla servizio della Chiesa Sono le parole del nuovo vicario Foranio Padre Michele Mattina L'indomani della nomina Consapevole dell'impegno che sta abbracciando Il parroco della Chiesa Sant'Antonio di Gela Racconta ai nostri microfoni le emozioni del momento E lo spirito con cui intraprende questo nuovo cammino Sentiamo È Padre Michele Mattina il nuovo vicario Foranio di Gela È stato eletto al termine della procedura di votazione In sede vicariale alla presenza del Vescovo Rosario Gisana Padre Michele subentra a Monsignor Grazia Labiso Che ha retto il Ministero di Vicario per oltre 30 anni Abbiamo incontrato il neo eletto che ci accoglie con la semplicità e il sorriso pacato di sempre Condivide ai nostri microfoni lo stato d'animo, le impressioni e le emozioni di questi momenti A 24 ore dalla nomina All'inizio c'è stata tanta trepidazione Sapendo che questo compito si aggiunge già a un compito abbastanza impegnativo Quale può essere la pastorale, il servizio da dare qui alla parrocchia Quindi ai fedeli e ai parrocchiani Ho detto il mio sì, ho dato la mia disponibilità Perché il nostro Vescovo Rosario Gisana Ha deciso di nominare i vicari Forani in tutte le dodici Foranie della Diocesi Chiamando i sacerdoti di ogni città a esprimere il voto E poiché il clero di Gela, nella stragrande maggioranza Ha indicato me come vicario Foranio Allora ho dato il mio assenso Sapendo che dovrò lavorare ancora di più E soprattutto dovrò mettere in pratica Quanto il Signore stesso ci suggerisce Padre Michele è sempre stato un uomo della Chiesa umile e riservato La sua elezione appare in linea con l'impronta di semplicità Data alla Chiesa, da Papa Francesco e dal nostro Vescovo Rosario Gisana Chiediamo al neoeletto vicario Foraneo Come cercherà di conciliare la sua innata riservatezza Con il nuovo ruolo che porta necessariamente con sé Un ampliamento delle relazioni anche mediatiche Basti pensare alla futura partecipazione ad eventi pubblici E non soltanto religiosi Padre Michele infatti generalmente non ha partecipato alle stesse manifestazioni Comprese le processioni Anche le manifestazioni esterne, quali processioni Devono sempre avere il carattere di una testimonianza da dare In termini di fede, in termini anche e soprattutto di fedeltà A quanto nostro Signore e la Chiesa ci hanno trasmesso e ci hanno insegnato Noi puntiamo sempre su quello che è l'aspetto della carità Anche quella spicciola, per cui anche le processioni esterne Siano un'occasione per sensibilizzare, per dire a tutti Di quello che è il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo Da tradurre sempre in stili di vita Che prendono a cuore, che condividono la sorte degli ultimi Dei poveri, dei sofferenti, degli ammalati La pagina della cronaca giudiziaria Sono cinque persone arrestate dalla Polizia di Gela Nelle ultime ore nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione C'è anche una donna, si tratta della 53enne Maria Concetta di Dio Che deve scontare due anni ai domiciliari per costruzione abusiva continuata L'episodio risale al 2007 Identica condanna per lo stesso reato Per Francesco Cammalleri, 62 anni Per spaccio e detenzione di droga continuato Deve scontare tre mesi e nove giorni Tra le mura domestiche Alessandro Rolla, 32 anni I fatti risalgono al 2011 Tre mesi di reclusione invece per Rosario Valvoletti, 44 anni Per avere guidato un veicolo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti L'episodio si è registrato nel 2008 a Ragusa Deve scontare sei mesi ai domiciliari Francesco Alma, 40 anni Per inosservanza degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale In questo caso i fatti si riferiscono al 2010 Sempre la polizia di Gela Ha denunciato un 53enne per falsa testimonianza Ed una 32enne per furto di energia elettrica E adesso parliamo della manifestazione anti-racket Promossa a Gela in Piazza Martiri della Libertà Imprenditori e commercianti che si sono ribellati al pizzo Hanno consegnato generi di prima necessità Da devolvere alle famiglie bisognose E' partita oggi la due giorni promossa dalla associazione anti-racket Che danno Giordano di Gela Nell'ambito dell'iniziativa 2014 per un Natale anti-racket Pacchi dono sono stati offerti dai commercianti e dagli imprenditori Che si sono ribellati alla racket delle estorsioni L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie più bisognose della città I nostri imprenditori, i nostri commercianti Sono stati sensibilizzati E hanno portato circa un 10.000 euro di merce Quindi è andata benissimo La vogliamo ripetere perché la situazione della crisi economica Va sempre rafforzandosi E quindi invece di fare altre manifestazioni, altri convegni Abbiamo pensato di devolvere anche quel po' di risparmio Che stanno avendo i nostri imprenditori Non pagando più il pizzo Di darli alle famiglie più bisognose Nel corso della manifestazione gli aderenti all'anti-racket Sensibilizzeranno i commercianti al consumo critico Pago chi non paga E la cosa importantissima Oggi denunciare conviene All'iniziativa è presente anche la baby aggregazione Di questa iniziativa ci è piaciuto il fatto che Finalmente a Gela c'è una vena di solidarietà Finalmente a Gela si vuole fare qualcosa di buono, di bello E qualcosa al fine di aiutare le persone gelesi che sono in difficoltà Noi da parte nostra abbiamo messo il nostro appoggio Per quanto riguarda incentivare i giovani Ad avvicinarsi a queste situazioni e queste manifestazioni Appunto per promulgare l'impegno del volontariato e della solidarietà La distribuzione dei pacchi dono verrà presso le sedi Delle associazioni che hanno aderito all'iniziativa Le quali si occuperanno della consegna Ci sono tantissime famiglie, tante giovane coppie che avevano lavoro Vivevano dignitosamente ma oggi lo hanno perso E quando nel nostro centro di ascolto, come ho detto l'altra volta Vengono le mamme, le mogli Guardi che è un momento molto brutto Perché perdere il lavoro, non avere il lavoro per la famiglia Significa non avere dignità, non avere più niente, non avere obiettivi E questo è un dolore per noi che condividiamo questo momento di sofferenza di tante famiglie Ogni anno il Paese risponde in modo generoso in questi momenti di solidarietà E invitiamo tutti quanti a partecipare Perché il poco di tanti può rappresentare molto per tante famiglie bisognose Raccolta di firme contro l'aumento della tassa sui rifiuti La Tari promossa da articolo 4 a Gela Si terrà oggi dalle 17 alle 20 in Piazza Umberto I E domani dalle 9.30 alle 12 ai muretti di Macchitella L'articolo 4 ha chiesto al sindaco Angelo Fasulo Di riportare in consiglio comunale il regolamento In modo da modificare l'applicazione della Tari Le proposte sono la riduzione in base all'aspetto reddituale ISEE La riduzione del 50% per i diversamente abili Identica riduzione per tutte le attività commerciali Ed ancora l'eliminazione della Tari per le pertinenze Garage, box e cantine E l'eliminazione della quota variabile per le seconde case non abitate Una caserma, quella dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta Con problemi strutturali che dovrebbero essere sanati dall'ex provincia Che al momento, per la crisi economica che sta attraversando lente In fase di transizione ai consorsi di comune Non è in grado di intervenire Che vengono sopperiti in parte dagli stessi vigili Questo è l'unico problema che il comandante Gianfranco Scarciotta Evidenzia in seno alla caserma Smentendo le voci diffuse nei giorni scorsi Sul dimezzamento del parco mezzi in dotazione al comando E alla carenza di personale Al momento infatti è di 200 unità il personale in servizio A Caltanissetta che riesce a dare risposte adeguate Anche al territorio di Gela, Mussomeli, Mazzarino E al distaccamento volontario di Niscemi Devo innanzitutto smentire il fatto che Il comando di Caltanissetta Quando parlo di comando parlo non solo della sede centrale di Caltanissetta Ma parlo anche delle sedi distaccate Quindi parlo di Gela, parlo di Mazzarino Parlo di Mussomeli Parlo del distaccamento volontario di Niscemi In tutte quelle sedi Non abbiamo in questo momento Alcuna difficoltà con riguardo agli automezzi E posso addirittura aggiungere Che nessuno dei nostri automezzi In atto si trova in riparazione Con riguardo invece All'attitudine E all'impegno Che mettono i nostri vigili Il nostro personale Nell'assicurare la manutenzione ordinaria degli automezzi Questo è vero Ma questa è una nota che va al loro merito Così come al loro merito Va anche questo impegno eccezionale Al di fuori del normale Che stanno mettendoci per porre mano Anche ad alcune criticità Che sono relative all'immobile Che adesso ospita la sede centrale di Caltanissetta Perché da tempo Non vengono realizzati Interventi specifici Di adeguamento Ma anche di manutenzione straordinaria Per le note difficoltà Dell'ex ente provincia Che è il nostro locatore Allora bene Siccome abbiamo delle professionalità Della gente che sa lavorare Parlo di muratori Parlo di carpentieri Parlo di pittori Parlo di idraulici Parlo di tanta altra gente Che si sta sbracciando Per cercare di Come dire Dare dignità Alla loro sede di servizio E per consentire Di viverci Nella maniera migliore possibile Domani Più di 1850 città del mondo Si illumineranno Per dire no Alla pena di morte Anche Gela Per la prima volta Delle reale iniziativa Promossa Dalla comunità Sant'Egidio Il cui responsabile È Selenia Laspina In collaborazione Con l'associazione Trischelion Teatro La manifestazione Si svolgerà Nella parrocchia Santa Lucia Con l'inizio previsto Per le 18.30 Con la celebrazione Eucaristica Preseduta da Luigi Petralia E con la testimonianza Di Shunya Graham Ex condannato A morte In California I beni storici Archeologici Di Gela Una risorsa Da valorizzare Per lo sviluppo Economico E sociale Del territorio E il tema Del convegno Che si darà Sabato 6 dicembre Alle 17.30 Al museo L'iniziativa È promossa Dal club Unesco Altra ricca ed interessante puntata di Agora Quella andata in onda ieri sera Il rotocalco settimanale della nostra emittente Ha messo al centro del dibattito televisivo La crisi della politica locale Proprio alla vigilia di una campagna elettorale Che si preannuncia carica di spunti E per niente scontata Ma chi si vorrà candidare Alla prossima guida della città Dovrà fare conti con un pericoloso avversario in più Ossia all'astenzionismo sempre più dilagante La gente che si allontana sempre più dalla politica Ed un disamore crescente Verso chi amministra e ricopre ruoli politici pubblici Ad animare il dibattito in studio Quattro ospiti ed esponenti Di alcuni dei maggiori partiti presenti in città Intanto I due partiti che governano Gela E cioè il PD e l'ex MPA Per il partito democratico È stato presente il vice segretario provinciale Giampaolo Alario Per gli autonomisti invece il deputato regionale Onorevole Pino Federico A completare il parterre di ospiti di Agorà Il segretario cittadino di articolo 4 Maria Ferrera Maggior partito di opposizione in consiglio comunale Ed il presidente del club di Forza Italia cittadino Ingegner Ignazio Russo Come sempre pregnante ed incisiva Puntuale ad arricchire ogni puntata di Agorà La scheda di Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro Chi volesse rivedere la puntata di Agorà Andate non da ieri sera Potrà farlo con la replica che andrà in onda domani A partire dalle ore 21 su Canale 10 Oppure collegandosi già dalle prossime ore Con il nostro profilo Facebook Dove sarà caricata l'intera trasmissione di ieri sera Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo Dalle ore 21 Con nuovi ospiti e nuovi argomenti Che riguardano Gela e Digelesi E la replica della trasmissione Agorà Condotta in studio da Franco Gallo Non andrà in onda domani sera alle 21 Ma martedì in prima sedata Sempre alle 21 E in edicola il Corriere di Gela Settimanale indipendente di attualità Politica, cultura e sport A diffusione comprensoriale Fondato e diretto da Rocco Cerro E la storia infinita Forse anche finita Prima di cominciare Del progetto Cilieginio dell'Agroverde Inaugurato in Pompamagna A giugno del 2013 Un anno e mezzo di attesa Fino allo sbotto del contractor Mondello Spa Che in una lettera alla stampa Dice come stanno le cose La prima pagina è quasi tutta Per questa vicenda Confusa ed incerta Il giornale pubblica integralmente La lettera della Mondello In prima pagina anche la pertenza Della raffineria Eni Vista da tre ex sindacaristi Tilaro, Siciliano e Crepanzano Che dicono si poteva fare molto di più L'intervista è di Nello Lombardo Giulio Cordaro nella sua politica Nella sua rubrica Politicamente scorretto Punta il dito sulla spettacolarizzazione Dei funerali Chiamando in causa i preti Che dovrebbero essere meno indulgenti Verso questa discutibile moda Un'intera pagina sul musical del CESMA Che ha riproposto per scopi umanitari Il suo cavallo di battaglia Jesus Christ Superstar Il musical più famoso nel mondo Il servizio è di Antonella Cinzia Sciagura All'interno inoltre servizi di attualità e cultura Di Lucrezia Ferro Lo psichiatra Franco Lauria E lo sport a cura di Orazio Accomando Con le ultime su calcio e pallavolo In ultima pagina La consueta pagina di annunci economici Gratuiti, affari e lavoro Il Corriere di Gela lo ricordiamo È in edicola Noi adesso ci fermiamo Diamo la linea alla regia per la pubblicità Ed eccoci in seconda parte del telegiornale È possibile presentare le istanze Per accedere al servizio di telesoccorso Non lasciamoli soli Il servizio è destinato a 150 anziani Ultra 65 anni In condizione di parziale o totale Non autosufficienza O disabili con handicap grave Residenti nei comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera Lo comunica il comitato dei sindaci Del distretto sociosanitario numero 9 Le istanze corredate dalla documentazione prescritta Devono essere presentate entro il 19 dicembre prossimo Termine perentorio Presso il protocollo generale del comune di residenza O inviate per mezzo posta Con raccomandata corredata Dalla ricevuta di ritorno In quest'ultimo caso Farà fede il timbro postale Il modello di stanza Può essere ritirato Presso i servizi sociali Del comune di residenza Appuntamento con i manufatti creativi Dal 2 al 7 dicembre prossimi Dalle 10 alle 12 E dalle 16.30 alle 20 Nei locali dell'ex chiesetta San Biagio di Gela L'iniziativa che si ripete ogni anno Nel periodo natalizio E patrocinata dalla comune Continuano a Gela i festeggiamenti Dell'immacolata concezione della Beata Vergine Maria Che si concluderanno l'8 dicembre Nella chiesa San Francesco d'Assisi Alle 17.15 è prevista la preghiera Del rosario e canto dello stellario Alle 18 l'eucarestia Con i gruppi e i movimenti parrocchiali E alle 19.30 la seconda rassegna Di musica sacra Omaggio a Maria della banda musicale Sound Waves del movimento Giovanile San Francesco Proseguono gli appuntamenti Con la stagione concertistica gelese Promossa dall'associazione Giovani Musicisti Con il patrocino della regione siciliana Del museo archeologico regionale E del comune di Gela Oggi alle 19.00 nei locali del museo È previsto il concerto del duo Massimo Martinez alla chitarra E Guglielmo Sgarlata al pianoforte Il direttore artistico E il maestro crocifisso Ragona Sono tre le donazioni di sangue Promosse dalla sezione gelese dell'ADAS Preseduta da Felice da Maggio Si terranno domani Nei locali del poliambulatorio ASP2 di via Roma A Mazzarino È lunedì 1 E venerdì 5 dicembre Nel centro di raccolta fisso Di via degli Appennini Numero 5 A Gela Sono aperte le iscrizioni Al corso REC Per la somministrazione Di alimenti e bevande Presso la sede Della Confcommercio Gela In via Cicerone Al numero 104 Quanti fossero interessati A iscriversi Possono farlo Presso la segreteria Della Confcommercio di Gela Dalle lunedì Al venerdì Dalle 15.30 Alle 19.30 Entro e non oltre Il 30 dicembre prossimo Per informazioni Bisognerà chiamare Numeri 0933 93 97 18 Oppure 345 38 30 525 La pagina dello sport Il calcio Il presidente dell'Atletico Gela Cristiano Paradiso Ci ripensa Dopo un chiarimento Con alcuni dirigenti Del comitato regionale Della Lega Nazionale Dilettanti Il patron ha deciso Di continuare La squadra domani Sarà regolarmente In campo Al presti Contro il città Di Catania Rassicurati In questo caso Anche giocatori E staff tecnico Torna dunque Il sereno Dopo la varezza Dei giorni scorsi Sentiamo Ai nostri microfoni Proprio Cristiano Paradiso Cristiano Paradiso Finalmente Allora domani Si gioca La quiete dopo la tempesta Perché in un primo momento Avevi pensato Di ritirare la squadra Poi hai parlato Con i vertici Della Lega Sicula Che hanno detto Che avranno Non dico un occhio di riguardo Nei confronti Della Statico Gela Assolutamente Ma vedranno Con attenzione Lo svolgimento Di questo campionato Ma un occhio di riguardo No Perché comunque Tutte le squadre Dei gironi Siamo tutti uguali Noi non vogliamo Essere regalato niente Da nessuno Il problema è stato Proprio un altro Che comunque Pur giocando La mia squadra La Statico Gela Una squadra combatta E dinamica Ci vediamo rubare Le partite in questa maniera Non Sinceramente Io avevo deciso Anche di ritirare La squadra dal campionato Proprio per dare Un segnale alla Lega Di attenzionare Questi arbitri che mandano Non è possibile Perché alla Sicula di Leonzi Vado a perdere 2-1 Non dico due goli regolati Ma l'uno è sicuro Io almeno lì Dove andare in pareggio La partita Sullo scontro di Coppa Italia Mi mandano degli arbitri Della stessa provincia Di Racusa Quindi Santa Croce di Racusa Provincia di Racusa Quindi Non è una cosa fattibile Che si possa fare In questo senso Io ho avuto una riunione Con i vertici della Lega Dalla quale Prenderanno attenzione Di questa mia osservazione Che si è stata fatta E quindi Perché no Non poter procedere Al campionato Anche perché poi I giocatori L'allenatore Il direttore sportivo Ultimamente Avevano dichiarato Che sarebbero scesi Ugualmente in campo Domani Per affrontare La partita Con il Città di Catania Sicuramente I ragazzi Non è che sono scesi in campo Per fare una forma Di protesta contro di me Questo precisiamolo I ragazzi I ragazzi I ragazzi si volevano Autogestire Proprio per dare Un senso E un'immagine Buona Che attualmente Sta avendo L'Atletico Gela Grazie A loro stesse Grazie a quello Del mio lavoro Che sto facendo Come presidente I ragazzi Volevano dimostrare Anche domani Pur io contrario Di essere sempre Una squadra dinamica Una squadra Che comunque Combattiva Però che comunque In ogni caso L'importante È che abbiamo sistemato Alla meglio Siamo ritornati Nelle nostre Quindi penso Di poter andare avanti Tranquillamente Ora dopo le sconfitte Consecutive Campione della Coppa Domani invece Bisogna assolutissimamente Vincere Come dicevamo Affronterete in casa La città di Catania E finora in casa Esclusa la Coppa Italia Ci riferiamo Alla partita di mercoledì Col Santa Croce L'avete fatto sempre bene No vabbè Noi ce la giochiamo E' logico Che le partite Vanno giocate in campo Vinga sempre la migliore Secondo la mia opinione Perché è giusto così Se l'Atletico Gela Merita di vincere È giusto che Debba vincere La situazione Orizzonte Gela Con il padroginio Dall'amministrazione comunale Organizza L'Europeana Basketball Week La settimana del basket Si svolgerà Da oggi Al 7 dicembre prossimo In 33 nazioni E vedrà coinvolti 18.500 atleti Con e senza disabilità In Italia L'evento Si terrà In 14 regioni Con la partecipazione Di 4.835 atleti L'unica data siciliana E' prevista a Gela Il prossimo 3 dicembre Alle 9 Al Palacossiga Di Marchitello Dove si svolgerà Un torneo di basket Unificato Che coinvolgerà Le scuole primarie E secondarie Di primo grado La pagina La pagina Dello spettacolo E due giorni Una notte Il film in programmazione Alla Cine Teatro Antidoto Di Macchitella A Gela Vi ricordiamo Gli orari 19.30 E 21.30 Noi abbiamo chiuso Anche per oggi Grazie per averci seguito Appuntamento A lunedì Grazie per averci seguito